il genio si raggiunge quando un artista riesce veramente a prendere in giro se stesso il prologo è già un esempio è modellato su stilemi di opera seria però viene completamente rovesciato viene completamente ribaltato ci da un'occasione si presenta l'ambiente in cui l'opera si svolge quindi anche drammaturgicamente ha una funzione furba rilevante rossini ci fa capire esattamente subito dove siamo e chi sono gli attori e non dimentichiamoci mai che carlo decimo si proponeva come re taumaturgo come re guaritore il fatto che anche qui il medico sia messo in ridicolo la dice lunga su quello sulla ironia e sul sarcasmo di rossini e sul coraggio di rossini perché comunque questi sottintesi che oggi noi dobbiamo spiegare alla luce della storia nel 1825 erano sotto gli occhi di tutti quindi erano facilmente comprensibili il primo nobile che fa la comparsa accompagnata da uno stuolo di